Con questo peptide C posso dire che abbiamo fatto un salto di qualità in un tempo molto breve. Almosh è nato nel 2001, ora ha 19 anni. I suoi genitori hanno iniziato a preoccuparsi per la sua salute quando era all'elementari, poiché era molto malato. Non molto tempo dopo un esame ha rivelato che aveva linfoma di Hodgkin. La malattia di Hodgkin o linfoma di Hodgkin è un cancro che colpisce le cellule del sistema linfatico. I globuli bianchi sono noti anche come linfociti. Questa malattia colpisce spesso il midollo osseo, il sistema digerente, la pelle e anche il sistema nervoso, il che può portare a una varietà di sintomi. Sospettavamo il linfoma di Hodgkin perché avevamo i linfonodi ingrossati nel collo e nelle ascelle. Hanno eseguito una biopsia e hanno confermato che si trattava dell'infoma di Hodgkin. I medici hanno iniziato a curarlo e poi Almosh, a otto anni, è stato sottoposto a chemioterapia e radioterapia, ma sfortunatamente nessuno dei due ha portato un miglioramento significativo. Prima faceva molti sport, ma ha dovuto interrompere l'esercizio a causa del trattamento. Almosh è stato notevolmente indebolito dalla chemioterapia e in seguito, secondo i medici, è stato necessario anche un trappianto di midollo osseo. È stato trasferito per un trappianto di midollo osseo autologo. A questo punto avevamo quasi trascorso due anni e mezzo attraversando fasi diverse. E poi il trappianto di midollo osseo autologo è stato eseguito al quarto piano di quell'ospedale specializzato in una stanza sterile. Era molto, molto difficile per lui alzarsi e riprendersi da quello stato di immunodepressione, ma grazie a Dio ci è riuscito. E poi abbiamo pensato che andasse tutto bene. Siamo andati in vacanza. Non so se ricordi che siamo stati in vacanza. Ho una foto in mente, di noi, che celebriamo in una maniera grandiosa la sua guarigione. E poi siamo andati a fare una scansione TAC PET. E la scansione ha mostrato che c'era ancora qualcosa lì. Oltre alle cure mediche, i genitori di Almosh stavano anche cercando terapie alternative. Hanno provato i funghi medicinali che hanno migliorato le sue condizioni. Prendere funghi medicinali non era male. Ci sono state volte in cui il dottore ha detto che non aveva mai visto nessuno nel suo studio in cui Emocromo era tornato alla normalità così rapidamente. Beh, aveva subito parecchi trattamenti. E sebbene il suo corpo e il suo midollo osseo iniziassero a stancarsi, aveva ancora abbastanza forza per il trattamento successivo. Quindi i suoi trattamenti non furono mai posticipati perché non aveva buon Emocromo o non c'erano risultati adeguati della conta cellulare. A questo punto stavamo già utilizzando questi prodotti di Gabor Varga in parallelo. Quando la sua malattia sembrava migliorare, Almosh è tornato a scuola e ha iniziato di nuovo a fare cardiac. Per un po' è andato tutto bene, ma purtroppo la sua salute è peggiorata di nuovo. Ha ripreso a tossire e così è stato riportato in ospedale. La chemioterapia ha rallentato il suo processo mentale e il suo linguaggio. Quindi nel 2015 ha contratto un'infezione virale e secondo i medici aveva bisogno di un altro trapianto di midollo osseo. Quando ha iniziato con il trapianto di midollo osseo, avrebbe dovuto andare al liceo, ma non poteva. Poi l'anno successivo ebbe bisogno di cure intensive e di nuovo l'anno successivo. Quindi non c'era alcuna possibilità per Almosh di tornare a scuola. Mentre il sistema immunitario di Almosh era indebolito, ha contratto varie infezioni virali, una dopo l'altra, come il virus dell'herpes che ha attaccato i suoi occhi e questo lo fece diventare quasi cieco. Il ragazzo a 14 anni ha perso molto peso, pesava solo 35 kg e a causa delle sue condizioni critiche poteva essere alimentato solo attraverso un tubo. A causa di una polmonite avvenuta in seguito, è stato collegato a una macchina. Era una lotta costante con malattie sempre più emergenti. Queste lotte hanno indebolito i suoi muscoli, così è stato messo su una sedia a rotelle. Dopo un ictus ha avuto anche seri problemi per parlare. Mentre avevo un ictus, per esempio, mi ero completamente dimenticato di essermi alzato e di aver iniziato a parlare con mia madre in modo strano. Tutto quello che ricordo è che ero seduto a letto e mia madre mi parlava con aria spaventata. Abbandonato la scuola a causa della malattia, ma quella era l'ultima delle sue preoccupazioni. Ha dovuto lottare per la vita giorno dopo giorno. Ora Almos può di nuovo camminare e parlare. Tornato a scuola e ha ripreso a correre. Circa una settimana fa, sabato, stavo navigando su internet e ho trovato questo peptide C. Peptide C è Gabor Varga. Ho pensato, sì, sappiamo dei funghi medicinali. Sono fantastici. Non c'è niente di sbagliato in loro. Ma che cos'è il peptide C? E poi ho guardato questi video e ho visto che aiuta anche, c'è un problema con il sistema nervoso autonomo, per esempio. Questo talamo si trova da qualche parte sopra il sistema nervoso autonomo. Quindi ho pensato che potesse funzionare anche per Almos. Sono corso subito a prenderlo. Così lo usiamo. Sai, sono sempre stato così. Se qualcuno sta soffrendo, devo agire subito, cercare di risolvere. Ho scoperto che è molto più facile ricordare le cose. Ho provato a memorizzare le cose per molto tempo, ma non riuscivo a ritenere le informazioni, come se mi fossero uscite dalla testa o qualcosa del genere. Dimenticava. Prima mi dimenticavo, ma ora mi rimangono in testa. Dopo aver usato il peptide C, molti malati di cancro hanno sperimentato che il processo di perdita di memoria durante la chemioterapia si è invertito e inizia a migliorare. Oggi è lunedì, vero? Lo prende da lunedì della scorsa settimana. Se lo avessi visto una settimana fa, avresti visto che Almos rispondeva molto più lentamente. Non poteva formare frasi intere. Era molto più difficile per lui comporrere e pronunciare frasi significative. Almos era quasi incapace di memorizzare ciò che aveva studiato il giorno prima, non importa quanto fosse persistente. Non riusciva a ricordare le informazioni che aveva appreso. Dopo aver usato il peptide C, il cambiamento è stato svalorditivo per tutta la famiglia. Abbiamo provato molte cose in questi dieci anni. Abbiamo trovato molte piccole cose che ci hanno aiutato positivamente su questo percorso, ma non erano come questo. Ero assolutamente esausto perché c'era troppo stress. Non riuscivo a concentrarmi. Sono arrivato al punto in cui non potevo più guidare correttamente. Non ho potuto maneggiare la guida. Il mio sistema nervoso mi ha detto che era troppo per me. Ci sono state volte in cui non riuscivo nemmeno a fare poca strada. Ho detto che non sarei più salito in macchina. Mio figlio maggiore ha appena preso la patente, quindi mi ha aiutato molto. Ovviamente l'ho provato anch'io e sono rimasto colpito dalla differenza che ha fatto nella mia vita. Ad esempio, entravo in macchina e mi sentivo come prima. Mi piaceva guidare la macchina. Prima mi sentivo come se avessi spremuto l'ultima goccia di vita e poi ho iniziato a usarlo. Per me funziona. Infatti, ne ho dato un po' anche a mia madre perché mia madre a volte si dimentica molte cose. E poi le ho spruzzato un po' di questo peptide C nel naso e lei ha detto che poteva dormire tutta la notte. Non riusciva nemmeno a ricordare l'ultima volta che ha dormito tutta la notte. In qualche modo tutto ha cominciato a tornare a posto ma lo sta prendendo solo da domenica. Almos ha superato i dieci anni di cure e è arrivato il suo momento di rafforzarsi, divertirsi e recuperare gli anni scolastici mancanti. Il suo incontro con il peptide C è arrivato appena in tempo poiché questo tipo di supporto per il suo sistema nervoso e il suo sistema immunitario lo sente benefico ed efficace. Le informazioni in questo video non sono state valutate dall'Agenzia Sanitaria né dall'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA o da qualsiasi altro organismo medico autorità medica non miriamo a diagnosticare trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Le informazioni sono condivise solo a scopo didattico. Devi consultare il tuo medico prima di agire su qualsiasi contenuto di questo video. specialmente se sei incinta stai allattando prendi farmaci o hai una condizione medica.